Stiamo vedendo con Flavio il girato di ieri per il video di donne pazze C'è un cazzo di riflesso Che figata, fammi vedere altri spezzi Grande Beh, insomma, noi volevamo ringraziare tutte le ragazze che ieri sono andate con questo signore qua Ciao Per girare il video di donne pazze E le ringraziamo perché sappiamo che si sono presi i funghi ai piedi Perché erano piedi nudi per me E ringraziamo Allora, me li sono anche scritti, sono molto bravo Colette, Stefania, Annalisa, Greta, Anastasia, Silvia Come è che si chiude un video? Come è che si chiude? Bisbi, bisbi, bisbi